Benvenuti. Nella notte e mattinata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, mostrando già da questa prima fase molti momenti soleggiati. Nel pomeriggio la situazione atmosferica sarà ancora caratterizzata dal cielo limpido o che al massimo potrà presentare qualche leggera velatura di passaggio presente ad alta quota. In serata la nuvolosità potrebbe aumentare ma fortunatamente non sarà associata ad alcun fenomeno. Segnaliamo una ventilazione debole e di direzione variabile. Le temperature minime saranno in diminuzione mentre le massime saranno ancora stazionarie e su valori superiori alle medie abituali per il periodo. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.